24 dipartimenti, 6 accademi di belle arti, 4 università e 60 docenti di cui 12 direttori di dipartimento. Sono questi i numeri della prima giornata di orientamento universitario tenutasi presso il polivalente scolastico di Monopoli. L'iniziativa, a cui è stato dato il nome di In Viaggio con la Bussola, è nata tre mesi fa, voluta dai docenti per l'orientamento di tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore presenti in città. I vari dipartimenti sono stati divisi nelle aule del nostro istituto e presentavano le loro attività ad intervalli regolari, quindi scanditi nel tempo i ragazzi avevano la possibilità di spostarsi da un ambiente all'altro. Presenti tutte le università del sud, Università di Bari, Università della Basilicata, Università del Salento, Università del Molise, LUM di Casa Massima e le accademie di Bari, Lecce, Foggia, Napoli, Macerata, Urbino e Brera di Milano. Il problema dell'orientamento è un problema molto sentito e la sinergia, l'unione fra il mondo dell'università e il mondo della scuola può dare agli studenti un'ottima informazione per scegliere il loro percorso universitario. L'incontro conferma il bisogno di raccordare il mondo della scuola con il mondo dell'università, offrendo così agli studenti la possibilità di fare scelte consapevoli, selezionare i corsi di laurea, conoscere l'organizzazione, i piani di studio e gli sbocchi occupazionali degli indirizzi che si intendono seguire. Quello che conta è che la scelta degli studenti sia consapevole. Non è importante ciò che viene scelto dallo studente ma che sia la scelta giusta, che serve per la vita futura.